De Ketteler, CDK, De Ketelare, dobbiamo parlare, devi prendere la decisione della vita, devi dare una svolta alla tua carriera e devi farlo ora. Signori, benvenuti, nuova carriera gente qui su 23, nuovo format dove siamo all'interno della modalità carriera giocatore, dove alla fine è la mia prima volta all'interno di questa modalità su 23 e siamo ormai alla fine di FIFA, stiamo per passare ormai ai Sports FC, ma volevo concludere questo lungo ciclo, questo lungo percorso che ci ha portato qui alla carriera giocatore con questa nuova modalità, con questo nuovo format carriera gente, dove in sostanza noi cerchiamo di essere un'ancora di salvezza per quei giocatori, giovani e non, che nella passata stagione hanno riscontrato diverse difficoltà, tra questi, tra i tanti, CDK, De Ketelare che al Milan prometteva grandi cose, che doveva essere lui l'uomo chiave sulla trequarte alle spalle di Giroud che potesse in qualche modo andare a viziare assist, giocate spettacolari e anche gol e invece alla fine si è visto decisamente poco, quasi nulla e con il passare dei mesi questo ragazzo, il talento belga, è finito un po' nel dimenticatoio e quindi siamo pronti, facendo finta di essere nella stagione 23-24, quindi si parte dal Milan, ma è il caso di rimanere al Milan? De Ketelare per la sua carriera è giusto rimanere al Milan anche in questa seconda stagione? Secondo me no, perché nella realtà se Pioli dovesse cambiare stile di gioco, cosa probabile con tutti i vari nuovi innesti che ha fatto probabilmente magari De Ketelare riuscirà a trovarsi a suo agio, ma se le cose dal punto di vista tattico, dello stile di gioco offerto a Pioli non dovessero cambiare, diciamo che probabilmente per questa nostra prima stagione è meglio andare in un'altra squadra ma non definitivamente, ma almeno in prestito CDK è già cresciuto di uno di overall, sto seguendo un particolare percorso di allenamento che ci porterà ad avere più equilibrio nella sua scheda e migliorare poi secondo me quelli che sono i ruoli chiave, le qualità chiave poi per il suo ruolo è un giocatore che può essere sia attaccante che COC, ma personalmente ce lo vedo sempre alle spalle della punta più sulla tre quarti che come presenza fissa all'interno dell'area di rigore questi per ora i risultati poi sulle punizioni non sono in grado ragazzi, non sono in grado, probabilmente poi in futuro lo cambierò ma come potete vedere un punteggio che sta aumentando molto nella caratteristica individualista che secondo me è perfetta per CDK perché devi tirare fuori un po' gli attributi cosa che diciamo non si è particolarmente vista nel corso della passata stagione e anche nelle varie attività ho intenzione probabilmente di rispettare questo suo poi andamento questa poi sua evoluzione dal punto di vista mentale infatti qui ci prendiamo materassi, cose, facciamo un po' di tutto ma in realtà in questo momento siamo in attesa di una squadra perché abbiamo chiesto a mister Pioli di essere messi in lista prestiti probabilmente il mister asseconderà le richieste del talento belga e speriamo poi di trovare la squadra giusta anche perché va trovata una squadra giusta per questo giocatore ora ho detto che saremo partiti dalla stagione 23-24 ma in realtà diciamo che è come se all'interno del gioco partissimo dalla stagione 22-23 quindi in questo momento la squadra di Company è in Serie B inglese quindi Skybet Championship, quindi tantissime partite una stagione che potrebbe essere veramente lunghissima considerando non solo le tante partite di campionato che sono molte di più rispetto invece alle nostre con 20 squadre, le nostre 38 inoltre siamo anche in Inghilterra quindi bisogna tenere in considerazione la FA Cup e anche la Carabao Cup ma attenzione a Company, attenzione allo stile di gioco offerto da Company se non ricordo male dovrebbe essere credo 4-3 non ne sono sicuro, non ricordo però Company è allievo di Guardiola quindi secondo me può essere un profilo adatto poi per lo sviluppo di De Ketelare quindi ragazzi sinceramente sinceramente è vero possono arrivare altre offerte è vero può arrivare un'offerta migliore ma non la scarterei affatto perché è vero potrebbe essere un anno dove diciamo se ne parlerà di meno De Ketelare ma può essere un anno di totale formazione per il giocatore che poi potrebbe rientrare al Milan o da protagonista o rientrare al Milan per essere venduto poi ad una squadra che gioca ad alti livelli è chiaro però in una squadra del genere De Ketelare deve giocare sempre dal primo minuto quindi ragazzi io accetterei l'offerta firmerei e prima destinazione Barley che poi lui qui è veramente considerata proprio una stella cioè giocatore pagato sui 30 milioni nella passata stagione del Milan in questa stagione poi prestito in Inghilterra nella Serie B inglese che ricordiamo comunque è sì Serie B ma siamo in Inghilterra nel senso a livello di reputazione di Blasone è come se giocassimo comunque in una prima divisione di un campionato non sicuramente al top delle top 5 del campionato europeo ma comunque un campionato al top certo però che è la 13 la 13 per quale motivo ci dicapa voglio adesso il perché della 13 quello che dobbiamo fare nella carriera ho notato che gli allenamenti li devi fare sempre devi avere diciamo la pazienza di continuare a farlo nel corso della settimana e che non credo sia utile simulare perché se si va poi a simulare ho la sensazione che gli allenamenti poi vengono totalmente interrotti e questo poi metterà nelle condizioni company a non schierarti poi nella formazione titolare in questo momento la fiducia allenatore ci sta non è al top ma comunque dovremmo far parte della formazione titolare ed è fondamentale poi per lo sviluppo di CDK su uno stilista personale ci vuole anche perché nella realtà ho pure cambiato il taglio di capelli quindi probabilmente appunto c'è una persona che dice guarda Charles devi secondo me cambiare un po' il tuo stile troppo da bravo ragazzo come era prima adesso invece più cattivo tra poco ho reso conto delle prime partite dei primi mesi di De Chetelare al Barley però direi di continuare appunto a prendere delle decisioni a cercare anche di entrare un po' nel club nella storia del club quindi leggere un libro diciamo su quello che è stato il passato di questa squadra quindi Inghilterra ogni società diciamo che è una storia decisamente particolare e direi anche incontra gli ex compagni che questo sinceramente non l'ho capita cioè nel senso cosa fa? torna... ah che torna... una festa? con quelli del... vabbè ci sta, ci sta va bene Company usa De Chetelare alle spalle di Vasquez esattamente da COC ed è 4-2-3-1 quindi non è 4-3 come avevo inizialmente ipotizzato sarebbe stato tra l'altro anche un problema perché nel 4-3 o cambi di ruolo De Chetelare e lo spot di mezzo al campo oppure gli dà una responsabilità più da attaccante ma non era quello che volevamo quindi in questo contesto è esattamente il contesto del Milan di Pioli quindi meglio di così non poteva andare rimarremo un anno qua in Inghilterra però costruisci una stella cinema era assolutamente d'obbligo e non è facile ragazzi rimanere sempre nella formazione di De Chetelare di Company tra l'altro un overall che sta crescendo tra poco appunto i primi risultati le prime statistiche ma un De Chetelare che in Inghilterra veramente sta migliorando tantissimo sta crescendo velocemente giustamente mi stavo anche dimenticando del discorso della nazionale nel senso che De Chetelare deve anche in qualche modo riconquistare poi la fiducia del CT del Belgio e quindi potremmo eventualmente forse avere anche a che fare con una chiamata dalla nazionale che purtroppo a me non c'è stata ma dire ragazzi di partire quindi con il primo resoconto di questi primi mesi in Inghilterra al Barley in Serie B con De Chetelare overall che è cresciuto di due diciamo di tre in totale partendo dal 76 iniziale 19 presenze, 4 gol, 3 assist nella posizione da trequartista quindi sempre impegnati 17 partite 19 considerando anche le coppe ma un Barley che a differenza della realtà sta avendo grosse difficoltà c'è da dire però che a noi non interessa nel senso che questa deve essere per noi occasione di miglioramento di crescita ed è quello che sta ricevendo in questi mesi in queste settimane De Chetelare come ho detto all'inizio della stagione l'obiettivo non è portare il Barley in Premier è portare De Chetelare a un livello da Premier League perché siamo per gran parte individualisti ma dovremmo secondo me aumentare pian pianino anche qualcosa riguardo il trascinatore visto che sulla visione per essere un trequartista alle spalle delle punte 79 rimane troppo poco anche quei 78 sui passaggi lunghi chiaro ci fa piacere avere una sorta di trequartista che si inserisce molto che tenta la giocata personale infatti appunto vediamo accelerazione velocità scato tutta una serie di cose che stanno comunque migliorando però 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 secondo me anche il trascinatore va sistemato un po' non mi interessa ancora il discorso investimenti perché ripeto come ho detto vorrei portare De Chetelare a un livello più alto poi della sua carriera quindi in una squadra un attimino più importante quindi anche con un overall un attimino più importante però tutto quello che possiamo fare per aumentare un minimo i punti di trascinatore lo farei perché per la scheda del giocatore belga secondo me ce n'è assolutamente bisogno CDK13 bel passaggio questo per Vasquez la posizione regolare signori CDK13 illumina Vasquez finalizza va che passaggio ragazzi mamma mia qui responsabile però anche la difesa dello stock però cosa è inventato il nostro 13 com'è andata la prima stagione di De Chetelare al Bar la prima ed unica ed ultima stagione in Inghilterra almeno in Serie B direi che è andata benissimo perché è un più 5 di overall più 6 in totale contando anche il 76 dell'inizio e il più 1 ottenuto appunto in quelle prime settimane al Milan direi che è stata comunque una stagione ampiamente positiva tantissime prete giocate era quello che volevamo tante partite per fare tanti gol per fare tanti assist più possibilità per mettersi in mostra e siamo stati anche in parte fortunati perché non abbiamo avuto infortuni non abbiamo avuto problemi un De Chetelare che con 46 partite con la maglia del Barley va in doppia cifra 10 gol e quasi in doppia cifra anche come un numero di assist 9 uno di questi quello che abbiamo visto nel corso dell'ultima partita e alla fine queste buone prestazioni hanno convinto tedesco a chiamarci ma non sappiamo se De Chetelare avrà spazio per giocare in questo momento con company vedete riserva perché la stagione è finita anche continuandosi ad allenare non cambia quello stato adesso speriamo di poter invece vedere non più company ma tedesco il citito del belgio e convincerlo a giocare in queste partite che possono poi convincere il Milan eventualmente a puntare su di noi o magari altre squadre a bussare le porte rossoneri e chiedere informazioni su De Chetelare però qui parla di settembre parla di settembre quindi diciamo che saranno partite che giocheremo più in là a questo punto siamo in attesa del rientro al Milan e non si gioca ma De Chetelare si allena sempre e raggiunge ovvero l'83 allora il Milan in tutto questo ha preso Hoffman diciamo come sorta di sostituto di De Chetelare ma non credo che io debba preoccuparmi anche se attenzione stiamo comunque parlando di ovvero l'81 quindi probabilmente nella passata stagione è stato lui alla fine il titolare colui che ha sostituito De Chetelare Maldini non è cresciuto più di tanto Tiago Dantas in teoria potrebbe anche svolgere un ruolo un attimino più offensivo ma con lo 71 in questo attuale contesto in questa situazione attualmente De Chetelare può fare il titolare al Milan in questo scenario per me De Chetelare sempre il titolare al Milan io però sinceramente da gente valuterei anche altre alternative ed eventuali offerte e beh e qui ragazzi però possiamo veramente sbizzarrirci acquisto un attico di lusso qua il salto di qualità lo si fa non c'è rimasto praticamente nulla però insomma tutto quello che abbiamo in qualche modo così risparmiato in Inghilterra non sono ancora arrivate offerte noi continuiamo a spingere per il trasferimento giusto per vedere se si dovesse così presentare una squadra interessante se non si presentasse nulla chiaramente cercheremo di mettere nelle condizioni di Chetelare di giocare il più possibile e di convincere Pioli a puntare solo su di lui questa dovrebbe essere la formazione del Milan che vedremo di più poi nel corso della stagione e è la classica formazione del Milan sinceramente l'unica diciamo novità è quella di non vedere Calabria sulla fascia destra per il resto invece la stessa identica squadra la passata stagione ovvero l'84 alla fine è raggiunto in teoria forse siamo nelle condizioni per chiedere un aumento di stipendio aumento dell'ingaggio non aspettavamo altro che questo alla fine campagna tv dello sponsor servizio fotografico con lo sponsor tutto questo è sicuramente da fare ci danno anche un po' di soldini e in teoria potremmo anche iniziare a pensare a qualche investimento perché alla fine per me ci può ci può stare io potrei 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 pensare a una catena di ristoranti il livello di fiducia dell'allenatore è altissimo è al massimo diciamo che probabilmente saremmo davvero considerati una pedina fondamentale nello scacchiere di Pioli nel suo 4231 Pioli ha secondato De Chetelare probabilmente lui vorrebbe tenerlo però alla fine ha accettato la prima offerta ma la rifiutiamo perché abbiamo già diciamo dato come sacrificio come gavetta andando appunto in Serie B in Inghilterra non possiamo fare un passidietto andando in redivisie vero che il Feyenoord sicuramente giocherà almeno in Europa League in Conference o in Champions vero che il Feyenoord comunque è una squadra forte in Olanda appena vinto il campionato però diciamo che preferirei altre destinazioni quindi offerta rifiutata e per ora momentaneamente si rimane al Milan super offerta dal punto di vista finanziario dal Leicester 130.000 settimana qui andremo in Premier League ma andremo in una squadra che non so quanto possa diciamo ottenere di buono di positivo nella prossima stagione lo stipendio è sicuramente molto alto sicuramente goloso ma anche qui è una situazione che non promette nulla di buono se col Feyenoord il problema era la reputazione del campionato qua invece è la reputazione la forza di una squadra non più diciamo competitiva per poter vincere la Premier voci che vedono De Ketelara Borussia Mönchenglavak ma diciamo che anche qui è una proposta che rifiuterei e anche questa la rifiutiamo ragazzi anche questa la fine ufficiale è arrivata un po' deluso sinceramente un po' deluso però ci sta perché alla fine le grandi squadre non hanno ancora visto De Ketelara giocare ad alti livelli Portogallo Sporting non male ma anche qui sarò poi costretto a rifiutare per lo stesso discorso fatto prima per il Feyenoord Leicester e il Borussia è solo una voce è solo una voce non arriverà probabilmente nulla però ragazzi Bayer Monaco Bayer Monaco mi sono spaventato perché c'era la roba delle qualificazioni con la nazionale tra l'altro pensate 72 milioni mamma mia un'offerta che il Milan in un contesto normale avrebbe tranquillamente accettato dove tra l'altro in Champions League affronteremo il Bayer Monaco squadra che pazzamente stava per puntare seriamente decretellare nell'ultimo ora di calcio mercato anche poi contro il Benfica e per ultimo Dinamo Zagabria un Milan sicuramente non testa di serie di questo girone allora vediamo un po' il Milan in questa seconda stagione come messo quinto in classifica siamo come immaginavo ben distante le prime posizioni nel senso che la rosa del Milan comunque è sicuramente competitiva però là davanti puntare su Giroud che comunque le stagioni passano gli anni pure l'overall tende poi anche a calare diciamo che non è stato proprio il massimo e soprattutto poi non investire sulla fascia destra ancora Selemeker una difesa comunque buona la porta buona il centrocampo ancora di livello con Tonale Ben Nasser però diciamo quei due elementi il centro avanti e la destra bisognava in qualche modo sostituirli poi vediamo adesso il Milan o negli ultimi giorni di mercato in estate o adesso a gennaio avrà modo di cambiare però Milan sorprendente in Champions perché in Champions League stranamente questa squadra ha fatto grandi cose nel proprio girone primo nel girone addirittura sopra il Bayern Monaco 14 punti ragazzi un girone praticamente perfetto senza perdere alcuna partita e ci meritiamo un bel Eintracht Milan agli ottavi di finale un confronto non impossibile attenzione a questo Milan in Champions attenzione anche a quelle squadre che sono rimaste in Champions perché notiamo diverse sorprese diverse squadre grandi che hanno fatto abbastanza male diverse squadre diciamo che non consideri parte prendere parte di ottavi di finale che invece ci saranno può sorprendere e un overall che in questa seconda stagione questa volta con il Milan cresce di 2 overall 85 24 le presenze di CDK tutte le partite disponibili in Champions tutte le partite disponibili in Serie A 9 gol e 7 assist storia diversa rispetto invece alla sua prima vera stagione con il Milan e sono bei numeri ragazzi sono bei numeri cioè in questo momento Dechettelare potenzialmente potrebbe superare di molto poi i numeri della passata stagione col Barley Ginter come difensore come rinforzo e poi mi è parso vedere eccolo qua Gonzalo Ramos quindi ok non c'è Giroud diciamo che l'unica cosa che andrebbe cambiata è la fascia destra con Salemacher che comunque overall 80 non è male però secondo me se si vuole rinforzare di molto la squadra bisognerebbe trovare un sostituto però per il resto diciamo che ci sono le parti che sono stati decisamente rinforzati Gonzalo Ramos comunque presente un overall non ha fatto male però stranamente e qua davvero è incredibile non è lui il capocannoniere ma bensì Leao con addirittura 17 gol ah vabbè ma qua ragazzi passiamo alle cose grosse non abbiamo ancora questi soldi possiamo prenderci un jet privato lo facciamo è un po' una porcata però va bene jet privato a parte non sarà sessione di mercato dove chiederemo il trasferimento non mi sembra giusto rimaniamo al Milan cerchiamo di dare il massimo con il Milan e speriamo di alzare almeno un trofeo Leao CDK la gran botta addosso a Donana palla per Tonali chiama palla Salemeker c'è Leao lì attenzione qui perché Calulo può mettere un buon pallone dentro lo fa morbido per Tonali in acrobazia è un derby di Supercoppa dove addirittura siamo i supplementari va che bella apertura questa di Dechettelare per Salemeker poi il buon pallone per Gonzalo Ramos che vede Raffaleao che deve solamente piazzarla e la calcia malissimo bruttissima conclusione questa se Dechettelare sbaglia sto rigore è la fine no non ci credo ragazzi non ci credo no Charles non dovevi non dovevi tucu 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 e Mignan e Mignan e Mignan permette al Milan di alzare al cielo la Supercoppa italiana e peccato perché non è stata la partita di Dechettelare però ragazzi possiamo dire che il primo trofeo per CDK con la maglia del Milan il suo primo trofeo in Italia direi di sì direi quindi di sì non è stato sicuramente il match più importante nella storia di Dechettelare il miglior match di Dechettelare assolutamente no però è un tristissimo derby che si è incluso solamente ai rigori con il 23 Capitan Ginter che alza al cielo la Supercoppa italiana ed ecco qui la festa rossonera la festa del CDK sperando che sia il primo di tanti perché in questa stagione siamo ancora in gioco un po' ovunque ah male ragazzi siamo fuori dalla Champions e mi sa che siamo solamente in gioco in Coppa Italia esattamente perché avremo poi il ritorno con la Roma ad affrontare signori siamo in finale di Coppa Italia contro l'Inter attenzione diamo uno sguardo un po' alla stagione avete visto siamo usciti dalla Champions League sorpresa davvero contro l'Entrac di Francoforte l'altro grande classico tra Real Madrid e Barcellona in finale di Champions questo ha poi usato tra andate e ritorno un totale di 4 a 3 davvero un'uscita sorprendentemente negativa direi ampiamente negativo anche il percorso in campionato dove il Milan con le unghie con i denti cercherà fino alla 38esima giornata di difendere il quarto posto ma senza poter ambire ad altro perché sono quasi 20 punti di stacco dalla Juventus prima una Juve che ha praticamente già vinto il campionato è un'altra stagione diciamo deludente del Milan un Milan che adesso contro l'Inter voglio vedere un po' la formazione che tirerà fuori i pioli hanno preso Isaac hanno preso cioè è molto strano questo Milan possiamo dirlo perché continua a cambiare la davanti diciamo che Gonzalo Ramos non aveva comito più di tanto perché ha visto pochi gol forse venduto forse adesso come prima riserva ma è praticamente lo stesso Milan su quella fascia destra lì Calulu Salemekar secondo me si può fare qualcosa di più soprattutto con la presenza del giocatore belga e non mi sto riferendo ad etiquetelare ma bensì proprio Salemekar e se vogliamo dirla tutta anche in mezzo al campo che è la presenza di Tonali ma stono un po' invece la presenza di Pobega CDK con la 24 che palla questa per Leao punizione Milan il pallone che passa il destro Di Marco attacca l'Inter Barella il pallone che passa e meno male che non lo prende nessuno attenzione Milan adesso ciao in qualche modo col destro l'Inter è in 10 ragazzi attenzione l'Inter è in 10 ragazzi ancora calce di rigore non ci voglio credere Pobega spiazzanana non sarà invece rigore decisivo Brozovic è decisivo sempre Mignan che questa volta manda il Milan in paradiso ma non festeggiando la Supercoppa Italiana bensì la Coppa Italia mi sa anche un decetelare che è stato poi sostituito nel corso della partita che non ha concluso il match e stagione del Milan che si conclude come avevamo in parte già visto proprio al quarto posto quindi prossima stagione sarà Champions però troppa la distanza dalla prima posizione e devo dire anche dalla seconda poi chiaro ragazzi non è una stagione da buttare via io credo che questa ed è confermato sia stata la miglior stagione in assoluto di decetelare 14 gol 11 assist doppia cifra ovunque tante le presenze considerando la Coppa Italia la Serie A e anche la Champions League 50 un giocatore che ha sempre giocato non ha perso una partita forse solo una di Champions visto che non mi sembra di vedere l'ottava partita quindi il ritorno contro l'Entra però sempre presente tra Coppa Italia Supercoppa insomma non ha perso praticamente nulla e c'è un europeo ragazzi c'è un europeo da giocare per decetelare l'europeo che può poi davvero renderlo uno dei top in Europa e non solo e rimane sempre la richiesta di trasferimento siamo noi che possiamo decidere se ritirarlo o no molto bene perdiamo purtroppo 3-2 contro l'Inghilterra europeo che finisce qui per decetelare quindi torna al Milan diciamo che poi ci siamo spesso soffermati sulle statistiche ma da guardare anche gli attributi ragazzi di questo giocatore che nel corso di queste due stagioni è migliorato e sta continuando a migliorare un po' ovunque oh 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 mamma mia mamma mia oggi ho ricevuto e accettato un'offerta per te da parte della formazione Barcellona e il tuo agente è riuscito a spuntare un stipendio di 300.000 settimana signori cosa abbiamo combinato cosa abbiamo combinato cosa abbiamo combinato tra l'altro non so neanche poi il costo del trasferimento però diciamo che possiamo possiamo accettare possiamo accettare una di quelle piazze dove anche per la scheda che abbiamo creato De Ketelare può rendere veramente molto molto bene e secondo me quello che potremmo fare al Milan l'abbiamo fatto il Milan guadagnerà tantissimo questa cessione De Ketelare guadagnerà tantissimo rispetto a prima perché 300.000 a settimana sono veramente delle cifre folli accettiamo e confermiamo si va in Spagna ragazzi qui voglio vedere il numero però qui voglio vedere il numero di maglia e qua entra anche da Vippone cioè ricordandoci anche come era entrato al Barley qua invece ma qua invece che cosa che siamo in Belgio ma dove siamo ma dove siamo ragazzi ma perché ma perché mi rovini sto momento facciamo finta che la maglia del Belgio sia quella del Barcellona tanto la lettera è la stessa la 24 i numeri proprio che più ignoranti di così non si può la 42 giustamente il contrario no giustamente il contrario va bene no più che altro sono curioso di capire 141 milioni 142 milioni mamma mia che cifre voglio vedere un attimo in squadra che troviamo De Jong Ter Stegen De Ketelare Pedri Kunde Upamecano Cross ignorantissimo che sì Torres Lewandowski David poi abbiamo anche Usman Dembele Gabriele Rafinha Grimaldo allora se giocano 4-3 non so dove potranno posizionarci o in mezzo al campo da una sorta di regista avanzato in mezzo alla regista oppure non ne ho idea che tra l'altro il Barcellona attenzione giocava alla finale di Champions Corriere al Madrid quindi forse forse l'hanno vinta e infatti sì e infatti giocheremo la Supercoppa Europea contro lo United in teoria dovremmo giocare dal primo minuto uh no ma è troppo ignorante quindi per la prima volta De Chetelare attaccante ruolo che in parte va anche svolto al Club Rouge e che ritorna che ritrova questa volta al Barcellona scelta che condivido nel senso che era impossibile pensare di sostituire Gavi che sì o addirittura De Jong però non pensavo sinceramente in quel ruolo in quella posizione però potrebbe essere anche la stagione dove possiamo vedere finalmente tanti tantissimi gol di De Chetelare almeno 20 il nostro CDK42 eccolo che va a servire Gavi carica la gran botta deviazione corner per il Man United alla battuta Bruno Fernandes Kunde vola letteralmente Ferran Torres col tempo giusto De Chetelare guarda la porta ci prova e si presenta così CDK42 1-0 il gol al debutto e il gol vittoria ragazzi e il gol vittoria per De Chetelare con il Barcellona è la stagione definitiva la sua stagione ed eccolo appunto lo vediamo inquadrato nei festeggiamenti per la UEFA Super Cup è praticamente ritornato il grande Barcellona perché è tornato a vincere la Champions è tornato a essere protagonista in Europa e nella stagione dove forse vedremo davvero la consacrazione definitiva del talento belga però ragazzi non è tutto oro quel che luccica e diciamo che a sorpresa ci ritroviamo metà stagione un Barcellona quinto in classifica con non chissà che distanza dall'Atletico Madrid perché sono 6 punti perché Real Sociedad era Madrid dove il Real Barcellona siamo tutte lì ma non ce l'aspettavamo e probabilmente attenzione potrebbero anche esserci piacevoli sorprese per la carriera proprio di De Chetelare il debutto con gol ma poi ha effettivamente giocato diciamo di sì diciamo che viene comunque schierato ma vediamo un De Chetelare che ha fatto solamente 3 gol uno di questi l'abbiamo fatto noi in Supercoppa possiamo chiedere anche l'aumento perché abbiamo raggiunto overall 89 mamma mia 410.000 settimane tantissimo altra coppa per De Chetelare due Supercoppe tra quell'italiana e quella spagnola e la Coppa Italia per un totale di 3 questo il bottino festeggiando anche poi anche il raggiungimento dell'overo 90 un recappone di quanto è successo in questa terza stagione con protagonista De Chetelare al Barcellona dopo il Barley e dopo poi la conferma al Milan non vinciamo il campionato 6 punti di distacco e ragazzi secondo me pesa tantissimo la figura di De Chetelare ma poi vi spiegherò più in là il perché e i tanti punti persi soprattutto all'inizio della stagione la Supercoppa come ho detto trionfo Barcellona nel torneo in Coppa di Spagna vince il Real Madrid e il Barcellona si ferma relativamente presto ai rigori quarti finale proprio contro il Real Madrid in Champions League un grosso peccato perché in realtà battiamo il Bayern Monaco nel doppio confronto ai rigori ma ai quarti finale becchiamo il Manchester City il totale è di 3 a 2 e il City appunto che poi se la giocherà il 31 maggio 2025 contro il Paris Saint-Germain questa è la stagione di CDK allora ragazzi un passo indietro rispetto a quella col Milan non tanto dal punto di vista realizzativo perché secondo me più o meno sono quelli i numeri sono sempre quelli quasi sui 20 ma comunque sotto i 20 4 assist ovvero il cresciuto di 3 ovvero l'addirittura 91 ma ci sono stati problemi con Xavi perché Xavi non ha secondo me capito bene De Ketelare o meglio secondo me De Ketelare rimane sempre un giocatore che deve giocare alle spalle delle punte che non ha ancora secondo me le caratteristiche per essere attaccante è vero il tiro c'era il dribbling pure la velocità non è per così male però secondo me rimane un giocatore che deve stare o in mezzo al campo come sorta di mezzala regista oppure proprio come trequartista in zona di rifinitura a dettare diciamo il passaggio finale il passaggio esivo o magari la conclusione dalla distanza capisco Xavi non voleva privarsi di Frankie De Jong non voleva privarsi di Cassie non voleva privarsi di Gavi ha diciamo sacrificato un grande attaccante là davanti mettendo usando con De Chetelare chiaramente poi abbiamo anche visto comunque che facendo un confronto tra le prime partite di De Chetelare nella stagione e la seconda parte di stagione i risultati sono migliorati sia del Barcellona e anche poi gli stessi individuali di De Chetelare rimane però una stagione sorprendentemente negativa che non mi aspettavo potesse finire così pensavo sinceramente visto anche i presupposti iniziali con la vittoria nella Supercoppa Europea di poter ambire a qualcosa di più almeno alla vittoria del campionato così non è stato io direi però ragazzi che si può concludere qui questo nostro primo episodio della carriera gente su VO23 qui sotto nei commenti vorrei un nome questo nome di un giocatore che volete può essere di qualsiasi età può essere un giocatore giovane quindi da formare un po' come è stato per De Chetelare una crescita l'abbiamo vista incredibile in tre stagioni da overall 76 overall 91 ragazzi è un ottimo risultato scatenatevi scatenatevi qui sotto nei commenti e io vi aspetto in un prossimo episodio ciao a tutti ragazzi alla prossima ciao a tutti